guardate che cosa qua questi motorini elettrici in realtà sono delle pompe peristaltiche ciao amici di saper fare e benvenuti in questo video cos'è la pompa peristaltica e o meglio a cosa serve la pompa peristaltica serve a dosare dei liquidi in maniera diciamo molto lenta e quindi praticamente da una parte entra il liquido l'acqua quello che vogliamo e dall'altra parte esce quindi è un motore una pompa a 12 volt e questa pompa permette appunto di creare ad esempio un un irrigatore elettronico oppure un dosatore di piccole quantità di liquidi da usare anche ad esempio che so per per costruirsi un distributore di bevande alcoliche whisky eccetera eccetera ovviamente ha una fuoriuscita che poi vedremo nel video molto lenta quindi è utilizzato per scopi diversi seguiteci sempre sul nostro canale tik tok saper fare ricordo sempre di attivare la campanellina e soprattutto se volete fare una donazione il super grazie in basso e già vi dico grazie l'anticipo ma andiamo a vedere appunto come funziona la pompa peristaltica direttamente alla prova come vedete io ho preparato già la pompa peristaltica con un alimentatore che adesso accenderò a 12 volt abbiamo qui all'interno una bottiglia con un po di acqua io ho messo un po d'acqua praticamente per permettere di fare la prova e adesso accendiamo e vediamo appunto la quantità di liquido che può uscire da una pompa peristaltica questo liquido permette praticamente così di creare un piccolo irrigatore elettronico con dosaggi davvero diciamo piccoli quindi adatto sia per l'irrigazione oppure anche per altri tipi di applicazioni come vedete il dosamento è molto molto leggero e lento e quindi a voi le idee da poter sfruttare questa pompa peristaltica io l'ho acquistata da modding italia la trovate su modding italia e spero che insomma questo video vi sia piaciuto ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti